Va bene, signori dottoressa, li devi mettere la mia trastatura e la mia buona. Ma dai, ma dai, ma dai, ma noi ci tendiamo a criticare fra di noi, dai. Allora, signori, ma dai, 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 ma dai. E la dottoressa, non ti devi comportare così, dottoressa, non ti devi comportare così. I lavoratori, dottoressa, usiamo gentilmente le parole, dottoressa. E l'altra volta, per un film, avete bloccato tutto l'ecce, per un film, avete bloccato tutto l'ecce. Però usiamo le parole un po' delicatamente. Eh, eh, è sbagliato, dai.